Tasso di positività al 2,6% in Sicilia. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'attesa ordinanza sulle nuove restrizioni imposte per contenere i contagi. I dettagli. Giuliana Miciche. Sono 729 nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 27.940 tamponi processati. Il tasso di positività è al 2,6%. La Regione è al settimo posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 12.637 con un aumento di 92 casi. I guariti sono 628. Le vittime sono state 9 per un totale dei decessi a 7.214. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono stabili a 351 e quelli in terapia intensiva sono altrettanto stabili a 43. Ecco la distribuzione dei nuovi positivi tra le province. Palermo 49, Catania 195, Messina 196, Siracusa 104, Ragusa 29, Capani 64, Caltanissetta 37, Agrigento 31 ed Enna 24. Il tempo, come trapelato ufficiosamente, adesso è ufficiale. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'attesa ordinanza su nuove restrizioni in occasione delle festività natalizie e della recrudescenza dei contagi. Dunque, per i cittadini con un'età superiore a 12 anni, è introdotto l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico si occuperanno di far rispettare la norma anche attraverso l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. E poi la nuova ordinanza estende l'obbligo di tampone nei porti e aeroporti siciliani ai passeggeri che arrivano dalla Repubblica del Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Stato di Israele, Repubblica Araba di Egitto e Repubblica di Turchia. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene o nei 14 giorni precedenti alla partenza soggiornato o transitato da Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. I passeggeri in arrivo da Paesi per i quali non è previsto il tampone obbligatorio potranno comunque richiedere di essere sottoposti al test direttamente presso lo scalo e a titolo gratuito. I soggetti giunti in Sicilia nei 10 giorni precedenti all'entrata in vigore dell'ordinanza devono contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale per essere sottoposti a tampone molecolare. Inoltre l'ordinanza punta ad assicurare un'adeguata sorveglianza epidemiologica in tutte le province dell'isola. A tale fine i dipartimenti competenti dell'assessorato alla salute eseguiranno una ricognizione dei laboratori siciliani in grado di sequenziare le varianti del virus e ne coordineranno l'attività con l'obiettivo di aumentare progressivamente il numero dei tamponi sequenziati in Sicilia. E ancora, i migranti che raggiungono il territorio siciliano al termine del periodo di quarantena saranno sottoposti all'obbligo del tampone molecolare. Grazie.